Subito invece parliamo di viabilità. Abbiamo per Rai Mobilità. Questa mattina Alessandra Canale, a cui diamo il più cordiale buongiorno. Sì Rita, buongiorno. La viabilità è vivace sulle strade della nostra regione per i trasferimenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative. Si registrano in questo momento sulla 10 la Genova 20 miglia dei rallentamenti tra Andore e Albenga in direzione di Genova. La segnalazione è di un incidente che si è verificato sulla 15 la Parma-La Spezia proprio al bivio della 12 la Genova-Rosignano in direzione Parma. Vi ricordo che sulla 7 è ancora chiuso lo svincolo di Isola del Cantone per programmati lavori di manutenzione sempre nel piano di ammodernamento di autostrade per l'Italia. C'è una stima dei tempi di percorrenza superiore alla norma da bollino giallo come potete vedere su tutte le autostrade Liguri sino alle 10 di stamane nel pomeriggio. Comunque per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.autostrade.it La sezione è dedicata alla viabilità della regione Liguria. Restituisco la linea. Buona giornata a te e ai nostri telespettatori. Grazie, un augurio che naturalmente ricambiamo procedendo. Grazie a tutti.